... ... ... Sei in ordine, ciò di inizia un'ora, le scelte, parti di fissura di inizio di oggi. Ho cominciato un paio d'ore fa e mi dà ancora 8 paio d'ore. La paraciglia. Chioli, Chioli ci dà un'ora. Questo è il parti di chiusura della prima settimana del Festival del Vigitale a Chioli. La paraciglia. Quando posso entrare, tirano pancine. Dove va? Open bar. Un uomo. Tanti ragazzi sono giovanissimi, sono tutti del mondo digitale. E qua c'è anche il segno della produzione locale di Coca Cola pasta a posto. E' una birra che ci ho provato io, questa qua. Si chiama Spy Horn. E' prodotto anche qui ad Agni. Un po' di ragazzi qua che... E' qua. Nell'angolo più nascosto c'è pure l'acqua. Nell'angolo più nascosto c'è pure l'acqua. Quindi... Nel fine settimana ci sono... Come no? Se venite a disposizione vi offro la diretta. Anche perché qua è gratis. Completamente gratis. e mi stavo dicendo nel weekend probabilmente ci saranno soltanto i trasferimenti e poi la settimana prossima è aperta il pubblico e c'è un'agenda fettissima di altri incontri quindi vi aggiornerò anche su quello che succederà la prossima settimana più tardi vado ad un altro evento qui in Cinoxon Square quindi rimanete in attesa ci sentiamo dopo in Cinoxon Square